Ragazzi, ieri ho deciso che avrei sbloccato a tutti i costi l'MP5 su MW2 E voi direte, vabbè, che ci vuole, soprattutto chi magari non ha giocato Beh, sappiate che l'MP5 su questo gioco non è poi così immediato da avere Nonostante sia un'arma così iconica Come vi ho detto infatti in un altro video, uno degli ultimi video che sono usciti Per alcune armi, per quasi tutte le armi in realtà Sono presenti praticamente delle sorti di gruppi, ok? Di armi analoghe, simili Che bisogna appunto sbloccare, livellare, eccetera Per sbloccare appunto gli accessori utili, poi per le altre armi Cioè, insomma, sono un tutt'uno Per quanto riguarda l'MP5, la cosa era molto seria Infatti, come vedete da questo alberello qua Per poter avere l'MP5, quindi Lachman Sub Lachman, non so neanche come si pronuncia, vabbè, avete capito Hanno dei nomi del cazzo su questo gioco L'MP5 Per sbloccare l'MP5 bisognava portare a livello 12 il Lachman 5-5-6 Come vedete Ma per avere Lachman 5-5-6 bisognava portare a livello 13 il Lachman 7-6-2 La prima arma da livellare era appunto il Lachman, come vi ho appena detto Un'arma che è stata definita da tutti come un'arma inutilizzabile, letteralmente Allora, dopo aver fatto qualche sparo ed essermi reso conto che la situazione era fuori controllo Ho deciso di ricorrere alla donazione ai veterani di guerra americani Praticamente un pacchetto in vendita nel negozio che ti garantiva un'ora di punti doppi armi Con questa ora di punti doppi armi io dovevo riuscire a livellare tanto questo fucile da battaglia Ed eventualmente livellare anche l'arma che avrete sbloccato dopo per arrivare finalmente all'MP5 Una sola ora di tempo per riuscire a velocizzare il tutto e non impazzire Le prime partite con il Lachman sono state veramente infernali Ve lo giuro l'arma è anche fortina da medie distanze Però quando inizi a utilizzarla questo rinculo legnoso e incontrollabile Ti porta inevitabilmente a smirare, ok? Soprattutto perché insomma vedendo l'arma tu sei portato a challengeare la gente da lontano Ma no, tu non la devi challengeare da lontano la gente Tu la devi challengeare da medie distanze Perché da lontano quest'arma non ammazza Non è che non ammazza, non colpisce Quindi le prime partite sono state, ve lo giuro ragazzi, infernali Ma come cazzo si fa a sparare con sta roba, raga? Si alza da morire, diobone, cioè Ma che cazzo è? Ma cos'è questo bamboccio in chart di gioco con la madre che le picchia, porca due? Ma raga è da impazzire quest'arma, eh? Vedevo quanti livelli ho fatto Minchia, raga, un si fa un livello a partita, non è possibile, cioè Nooo Non comprerò il bundle veterani per avere i punti doppi, cazzo Supportori veterani americani Ma ieri, mica, dato che non volevi supportarli Lo so, non volevo supportarli Infatti non li vorrei supportare Ma hanno i punti doppi a quanto pare i veterani americani, quindi Come faccio acquistare questo cazzo di coso? Si capisce una sega su Steam, giuro Oh, eccoli qua, gettoni i punti doppi Ci siamo, raga? I punti doppi, Nico, cerca, cerca, cerca Dopo diverse partite, non chiedetemi come è possibile In realtà diverse, un pochissime Perché, appunto, ricordiamoci che avevo solo un'ora di tempo Ho iniziato a prendere la mano con l'arma E non chiedetemi come sono iniziati i macelli Ho iniziato a detonare la lobby E a fare streak su streak Con un'arma che di base, insomma, non valeva nulla O meglio, mi era stata presentata come un qualcosa di inutilizzabile E che fino a pochi minuti prima effettivamente sembrava esserlo Non riuscivo a fare niente Non è la peggior arma da fare, Oros, che non vuoi al momento? La mix 9 E l'M16 E l'M16 Insieme anche a quel Lackman Ho questo Lackman, però, è una merda Ma non si sa come A volte riesco a fare delle streak Io ho perso la... C'ho fatto il visit con questo Lackman, aspetta Sono partiti quindi i macelli E dopo tanta, tanta fatica In realtà a pochissimi game Perché ve lo giuro che con i punti doppi Si livella come dei dannati Sono riuscito a portare a livello 13 Il Lackman Che ho prontamente abbandonato Per passare subito al fucile d'assalto Il Lackman 556 Il Lackman 556 invece Sembrava sin dall'inizio Essere un'arma valida Mi era anche stata presentata Effettivamente come un'arma molto valida Quindi la imbraccio subito E inizio a sfruttare Quello che mi rimaneva Dei punti doppi Dei veterani di guerra I massacri erano dietro l'angolo Ve lo giuro ragazzi Quest'arma è fenomenale Veramente fortissima Precisissima Un ottimo danno Oltretutto a un certo punto Mi ritrovo a dover fare la sfida Che mi richiede di utilizzare I silenziatori Metto quindi un silenziatore Che aumenta la velocità Dei proiettili nell'arma E ve lo giuro ragazzi Pauroso Laserava le persone Sono riuscito a fare un sacco di streak E sono riuscito Incredibilmente A raggiungere subito Entro l'ora di tempo Il livello 12 Necessario a sbloccare l'MP5 Questo luckman qua è precisissimo Raga ho sbaglio R è fortissimo Ho fatto la nuke con quello Se lo Dario diceva che faceva cagare Giuro Sto ricaricando Che è fortissima quest'arma Vero che è forte Te l'ho detto che è Forte due bro Perché è veloce ma dà un colpo E' anche preciso E' fortissima bro Te l'ho detto Ho capito che me l'hai detto Minchia Cioè anche ogni volta che dicono A questo punto però ragazzi Ero in ballo Non aveva senso E non continuare a ballare E cosa ho fatto Ho deciso di goldare l'arma Anche perché Mi rimanevano veramente Poche armi Da fare oro Per quanto riguarda Ficili d'assalto Due armi L'M16 è questo E quindi Ci siamo messi E ne abbiamo sbloccato Sei serie Da tre Per fare gold Anche questo luckman La sarma è spettacolare Raga giuro Prima serie da tre Raga guardate Che fa laserare un botto Il silenziatore Fa laserare un botto Entrano subito i colpi Ok due serie da tre Già fatte Guarda un'altra serie da tre fatta Ok tre serie da tre fatte Sto ricaricando Sto ricaricando Sto ricaricando Sto ricaricando Non carica raga Giuro è lentissimo Wow Ho fatto un'altra serie Mi sa Ah l'ho finita Allora raga È la volta buona Che provo l'MP5 Per la prima volta Io non l'ho mai provato Provo l'MP5 Mai provato raga E quindi Finalmente Tra le mie mani Era arrivato L'MP5 Con l'MP5 in mano Ragazzi Ero molto contento Veramente tanto contento Anche perché la fatica Era stata tanta Ma in realtà Ero riuscito a eludire Un po' il sistema Con quei cazzo di punti doppi Ero riuscito Da andare dritto All'obiettivo Appena appresimato L'MP5 Mi sono sentito Una scheggia L'arma è veramente Rapidissima Bellissima Una bestia raga Ho fatto delle parite Molto molto belle Ma non ve le farò vedere Adesso Andiamo direttamente Alla fine Quando dopo pochissimo tempo Visto che l'arma è stata Molto rapida da livellare Sono riuscito ad arrivare Alla sfida finale Per goldare Anche questo MP5 Ovvero le solite serie Da 10 Da 3 Sì da 10 Serie da 3 Per 10 volte Ed eccovi qui Le serie da 3 2 1 2 su 10 Vado 3 su 10 Però dove l'ha messo Questo qua raga 2 3 4 su 10 Via 5 su 10 Godo 1 2 3 6 su 10 Godo Ok 4 serie da 3 Raga E ci siamo 1 2 3 7 su 10 Via 7 su 10 Via 1 No Non ci credo 3 Godo 8 su 10 Che raga Che partita è tutto uguale Giuro Cioè Sono tutti fermi lì dietro Io che li vado a prendere E loro che mi kill 2 9 su 10 Conto di base 1 Se che l'ho fatta Godo Finita Le 5 oro Fatto Finalmente E quindi Dopo tanta fatica Sono qui per presentarvi Ragazzi Le mp5 oro Sbloccato E portato a casa Che ve lo giuro Ragazzi A me le mp5 E anche Le mp5 Oddio Altissimo volume Mi ricordano Con questa mimetica oro Le mp5 di black ops 1 Raga Sembra le mp5 di black ops 1 Raga Allora vabbè Ha accessorato tantissimo Ma ve lo giuro Sembra un botto Quell'arma Le mp5 di bio E qui invece abbiamo Il fucile d'assalto Molto molto forte Purtroppo la build Non ce l'ho Perché ho rimosso la classe Ma Uno di questi giorni Vi porto un video Con quest'arma Perché secondo me Merita veramente tanto Ragazzi È una super super arma Veramente Fortissima ragazzi L'avrete visto nel video Detto ciò Vi aggiorno un attimino Sulla situazione mimetica Visto che appunto È doveroso farlo Visto che siamo comunque Nero a tu secret camo Al momento ragazzi Per quanto riguarda le mitragliette Devo fare l'MX9 Che non l'ho ancora toccato E il PD P90 Il PDSV Non so Quindi mi mancano due mitragliette Perfine le mitragliette oro Per fare tutte Per farle platino Per quanto riguarda Le mx Gita salto Ormai mi rimane Salto l'M16 Che ho già iniziato E sarà il prossimo video Ragazzi L'M16 Cioè da impazzire Detto ciò ragazzi Spero vi sia piaciuto il video Vi lascio un bel like Qui da veloci E un altro abbraccio Bella raga Ciao